Eccoci ancora insieme per la seconda parte dell'apertura dei 12 pacchetti di Pokémon X e Y Questa volta mi sono armato di fornici perché devo salvare i pacchetti che non sono riuscito a salvare nella prima parte Tipo questo di Blastoise Quindi usciamo un attimo dall'inquadratura Ok Salvato Poi con quelli che mi arriveranno da card game proverò a salvarli anche manualmente Codice Fammelo buttare questo coso qui Ok Allora Braix Bellissimo Dance Pairs Pattini Bunnelby Froki Onege Slugma Gigli Puff Rosa Bellissimo Delchetti Reverse E No Raichu Olo Primo trovato Reverse Adesso Olo Bellissima Salve 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 Anche questo Ok codice ancora ragazzi non ho trovato niente a parte due oro allora diggers vai energia in colore doppia forza muleto fletching ponyard spoing skitty energia folletto volbit reverse e bidrill raro quindi su 12 pacchetti ancora niente di interessante non vorrei che questi avessero fatti come esplosione plasma che sono stati davvero abbastanza sfortunatelli come pacchetti proseguiamo allora lumais muscol banda crocorock weedle scatterbug skiddo voltorb sundial crocorock da verze e wigglytuff raro bellissimo proseguiamo proseguiamo ancora non l'ho salvato quindi lo buttiamo codice allora recluta del team flayer Wirliped Dodrio Energia Pikachu Come è stato strano in questo Timbord Tail of Sheldr Wirliped Reverse E A Aegislash sarà Raro Anzi io qui all'orizzonte Ancora non vedo nulla Ma per essere i primi pacchetti va anche bene Codice E abbiamo Sorrock Lunatone Lettera del Prof Pikachu Bidoof Onege Rion Energia Acqua Crocodile Raro Reverse E Slarp A Folo All'un momento siamo a 3 Olo Che le Olo Reverse non le conteggio 3 Olo su 12 pacchetti Beh è stato un po' Scarsarella Questa apertura Quindi iniziamo con Xerneas e finiamo Ugualmente con lui Ho visto qualcosa Almeno Ci avevo preso speranza Allora Allora Super Pozione Lumais Shanna Spritzi Tailov Chespin Voltorb Fennekin Fennekin Che è lo starter che ho scelto io nel gioco Del 3DS Voltorb Voltorb Reverse E Se Xerneas X Lo sapevo C'è niente da fare Il mio preferito Esce anche Ovviamente ragazzi Non ho nessuna carta Quindi non è da scambio Che è la mia prima X Di X e Y Non potevo che trovare Il Pokémon protagonista Del gioco X E poi X Ragazzi Sempre forse alle donne Quindi Viva le donne Sempre danno Quindi ho scelto la X Per quello Quindi Abbandonate l'Y Ragazzi L'Y È il segno degli uomini Quindi non va bene Cioè perlomeno Le donne dovrebbero prendere l'X Gli uomini dovrebbero prendere Il gioco Y Cioè invece Gli uomini dovrebbero prendere Il gioco X Ragazzi Mi sto incartando Non ce la posso fare più Quindi Insomma Uomini fatevi le donne E donne fatevi gli uomini Ecco Questo è Il clou del mio discorso Cioè non so neanche io Che cosa ho detto Vabbè ragazzi Sarà Ovviamente L'emozione di X e Y Della nuova apertura Io vi lascio ragazzi Con questo splendido E meraviglioso sfondo Del mio Pokémon Preferito Diciamo Tra virgolette Di X e Y E vi aspetto Ragazzi Con l'apertura del box E con altri pacchetti Quindi Attendiamo Cargame Quando si decide Darsi una mossa A farmi arrivare Il tutto Vi ringrazio Per la visione Ragazzi Rimanete online Sul carri di PokéShiny E ci sentiamo presto Ciao ciao Ciao